Ancora controlli antidroga nella provincia di Arezzo. Le unità cinofile sono scese in via Vittorio Veneto per un servizio mirato al contrasto del consumo e dell'accessione di sostanze stupefacenti. Ancora un giro di vita è dunque allo spaccio in una delle zone calde dell'Aretino, nell'ultimo periodo teatro di episodi di degrado e microcriminalità. Ci troviamo infatti in quello che è stato definito il triangolo dello spaccio, ossia tra Campo di Marte, il parco del Pionta e la zona di Saione. I militari dell'arma assieme all'unità cinofile questa mattina attorno alle 10 hanno portato avanti una lunga attività di controllo avvalendosi del fiuto dei cani antidroga.